Sì, 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 con sofferenza ma l'abbiamo vinta, tre punti importantissimi, sì, eh Marotta, eh Marotta, eh Spinazzola ne era buono, era infortunato Spinazzola, ne era buono, attaccate, so teniamo noi Spinazzola, attaccate Marotta. Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giappiazzoggi, siamo venuti qui ragazzi nel Giappiazzcommentare per commentare il post partita ragazzi della nostra carissima Roma, della nostra magica e niente ragazzi, partita, vittoria importantissima, tre punti importanti ma una Roma che gioca bene, gioca bene, fa qualche errore ma soprattutto perché giochiamo a viso aperto, molto offensivo e quindi lasciamo dei buchi dietro e quindi una Roma che gioca molto bene. Io vi saluto a tutti e vi invito innanzitutto a lasciare un bel mi piace e un bel commento scrivendomi come vi è sembrata questa Roma quest'oggi, scrivetemi il vostro migliore in campo e il vostro peggiore in campo, il migliore e il peggiore in campo e mi raccomando condividete il video e se siete nuovi ragazzi iscrivetevi e azionate la campanellina degli aggiornamenti, quindi campanella attiva e se vi va venitemi a seguirci i social, link è in descrizione, soprattutto su Instagram quindi venitemi a seguire su Instagram, Jabiox, link è in descrizione, molto importante sia per i fatti miei privati ma pure per cose inerente a YouTube pubblico alcune cose in anticipo, vi dico alcune cose che usciranno poi dei video e quindi ve le dico in anticipo su Instagram, quindi venitemi a seguire e poi parliamo subito della partita, qui nelle schede ve li ho sull'ultimo video andate a vedere è uscito il paggellone della Serie A vi chiedo cortesia perché non è stato visto da tante persone andatelo a vedere se voi siete persi, anzi ve lo lascio pure a fine video andatelo a vedere il paggellone, ci tengo veramente tanto e se quel video raggiunge tanti mi piace, settimana prossima vi porto il paggellone della Roma quindi andateci parlando della partita invece una Roma che diciamo il primo tempo non è che mi era piaciuto tantissimo il primo gol arriva appunto da Cenzizunder un gol, un tiro cross diciamo che non era proprio un gol bello tanto da vedere perché era diciamo un cross buttata in mezzo per Pellegrini che la sfiora ma è stato rivisto, non l'ha toccata quindi il gol è stato assegnato a Cenzizunder partita sufficiente niente di più niente di meno non è che mi abbia stupito ha fatto qualche lampo Cenzizunder però secondo me ancora il vero Hunder ancora deve tornare comunque un 6 e mezzo se l'ha preso oggi Hunder si è comportato bene nel secondo tempo è calato però vabbè comunque parlando del gol è venuto un po' di fortuna lì bel cross passaggio di Krivert tiro cross di Hunder che la butta in mezzo Pellegrini non la tocca mamma mia Pellegrini mi fa innamorare ogni volta che tocco quel pallone Pellegrini mi fa arrapare arrapare veramente troppo forte Pellegrini arriva appunto l'1-0 di Hunder poi arriva se non sbaglio arriva al arriva al mamma mia diavrà ragazzi diavrà ancora una volta uno dei migliori in campo cioè veramente per me diavrà e Spinazzola oggi migliori in campo che tra l'altro Spinazzola appunto segna tra virgolette segna il 2-0 ma in realtà è stato deviato il tiro tiro cross di Spinazzola è stato deviato da Biraschi e quindi autogol appunto del Genova 2-0 per la Roma su tiro diciamo di Spinazzola quindi avrebbe un torino anche segnato ma poi ha fatto una partita spettacola su tutta quella fascia si è divorato tutta la fascia veramente mi è piaciuto tantissimo Spinazzola oggi ho visto cattivo voglia di rivalza e quindi Marotta te sta bene te sta bene tienita Samoa infortunato e Biraghi che è una mezza cartuccia tienite quei due e noi se teniamo Spinazzola tanto per fare la precisazione perché io spero spero che la Roma vada vada al tribunale contro l'Inter perché veramente ho sto scoprendo delle cose veramente incredibili anzi se volete ci faccio un video in cui parlo di quella di quella trattativa fallita tra Politano e Spinazzola perché veramente ci sta da parlare e la faccio un video intero non voglio parlare di quella trattativa lì ma lì veramente si sarebbe a mettere le mani addosso veramente non vi dico non voglio parlare della trattativa voglio parlare della partita migliorare in campo secondo me Spinazzola e di avrà stratosferico di avrà stratosferico fisicamente veloce i palloni sono tutti suoi a centrocampo veramente vero e tu non è che mi è piaciuto tanto però comunque diciamo che la difesa ha retto molto beh Paolo Lopez che fa purtroppo appunto la cappella sul gol perché noi praticamente al finale del primo tempo ha segnato il Genova ovviamente Pander segna sempre contro noi su un mezzo errore di Paolo Lopez diciamo sbaglia un'uscita che però dopo nel secondo tempo si riscatta con tante parate tra cui il secondo tempo appunto arriva il Genova che comunque non ha giocato per niente ha giocato però ha sprecato un po' troppe occasioni e ovviamente Paolo Lopez si è fatto trova sempre pronto soprattutto su quel su quel colpo di Irene ragazzi sotto gli incroci è andato a prendere il pallone ci abbiamo Spider Lopez veramente uno dei migliori in campo anche se ha fatto l'errore insieme a Spinazzola e a Diora per me i tre migliori in campo peggiori se devo dire forse la verità forse Veretù e Klaivert non mi sono piaciuti tanto però per il resto comunque una Roma ampiamente sufficiente si vede il lavoro che c'è a Fonseca soprattutto negli spogliatogli è uno che va lì e mazzola i giocatori a me piacciono gli allenatori che vanno nei spogliatogli e mazzolano i giocatori comunque veramente grandissima partita della Roma soprattutto la cosa importante erano i tre punti almeno ci portiamo a un buon ponteggio siamo non mi ricordo la classifica ma non ce l'ho davanti comunque siamo a tipo 5 punti dalla Lazio se non sbaglio quindi la settimana prossima c'è il derby e dobbiamo vincere quindi mi raccomando è importante era importante portare i tre punti a casa poi arriva nel finale arriva il gol del 3-1 finalmente ha segnato è tornato al gol il nostro il bosniaco Edin Geco mamma mia mamma mia Edin è tornato al gol finalmente ottavo gol in campionato gli serviva perché un gol che gli serviva tanto perché era tanto che non segnava un gol molto importante se lo stava quasi per mangiare lì sarebbe arrivato cioè veramente se si mangnava quel gol era da buttarsi dal ponte suo errore che però Perin sbaglia rinvio la prende Pellegrini assist perfetto per Geco che se lo stava quasi per mangiare però lo segna niente raga finisce appunto 3-1 grandissima partita soprattutto i tre punti mi raccomando fatemi sapere che vi è sembrato della partita lasciate tantissimi piace quindi e fatemi sapere se volete il paggellone della Roma commentate qui sotto condividete il video se no ragazzi iscrivetevi a salire la campanina niente ragazzi da qui è tutto e noi come al solito ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi fatemi sapere se volete pure il video che parlo della trattativa saltare Spinazzola Pulitano fatemi se volete sapere fatemi sapere sia se volete quello che sia se volete il paggellone della Roma niente ragazzi è qui è tutto noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi sempre e comunque forza Roma sempre e comunque vamos bella grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti